Dyson Purifier Cooler, veramente una manna al cielo, ma attenzione, questo prodotto non è per tutti. Questo di fatti non vuole essere una recensione, perché una recensione implica che vi spieghi vita, morte e miracoli di questo Dyson Purifier e vi spieghi anche come utilizzarlo, quali sono le funzioni, che un po' lo farò. Però è pieno di esperienza personale, perché sono allergiche a molti agenti esterni, difatti Federardo non se ne fa scappare manco una, però vi spiego il perché. Tale prodotto non è per tutta la clientela, già, perché se voi siete delle persone che hanno una casa già con un climatizzatore o addirittura un ventilatore e avete già una casa molto pulita, magari pagate anche una golf o un assistente per pulite del meglio, beh, non è molto senso utilizzare il Dyson, perché il Dyson ha diverse qualità d'aria, che state vedendo adesso in infografica, che vi mostrano degli indici, indici di umidità, indici di pioggia, indici di varie, diciamo, difficili cose da comprendere se avete solo un ventilatore, che il Dyson invece vi può mostrare. Però perché non è per tutti questo prodotto? Perché il Dyson punta alle persone allergiche, alle persone che hanno un asma bronchiale, per esempio il federale tessuto scritto. Dunque, se avete una casa anche abbastanza pulita, e avete, ripeto, una golf, avete un'igiene molto prontente in casa vostra, non comprate il Dyson, ma se lo comprerete, mi raccomando di utilizzare sempre una spesa scart, in questo caso una Siemens, per mantenere le vostre spine.